La maschera che presento per il Carnevale di Viareggio 2022 si intitola Il Tempo non ha età. Ha come protagonista il tempo e la vita. In questo caso la vita è rappresentata da una giostra sulla quale troviamo quattro personaggi. Ogni personaggio è una fase, quindi che va dall'infanzia alla tarda età. In questo continuo giro della vita, mentre il tempo rimane eterno e sempre lo stesso, noi subiamo continui cambiamenti, cambiamo noi stessi, cambiamo le nostre esperienze e le nostre emozioni. La maschera vuole essere semplicemente un inno alla vita, a godersi il momento intensamente e a considerare il tempo il bene più prezioso che si possa avere. La maschera isolata che presento per il Carnevale 2022 si intitola Il Rogo della Satira. È una critica all'autocensura e alla censura della libertà di pensiero. La satira è rappresentata da una gonna, da una persona, una personificazione piena di fumetti e vignette satiriche che viene, diciamo, aggredita da un mostro di fuoco che mi sono ispirata al balrog del Signore degli Anelli. Grazie a tutti.